Radio Doppio Zero, Radio Doppio Zero, suona ciò che ami, più suona e più la ami. Dopo il grande successo della prima edizione, sabato 16 e domenica 17 giugno, torna il concorso d'eleganza per auto d'epoca firmato Targa Puglia, patrocinato dall'automobile club BariBat e dal club ACI Storico e ospitato quest'anno dal centro commerciale BariBlu. Una due giorni all'insegna dell'eleganza e della passione per le auto d'epoca, ma anche e soprattutto della sicurezza stradale e di eventi aperti a tutti i visitatori del centro commerciale. Noi abbiamo intervistato Michele Perla, presidente di Targa Puglia, il dottor Francesco Ranieri, presidente dell'ACI BariBat e la dottoressa Carla Palone, assessore allo sviluppo economico del comune di Bari. Siamo con Michele Perla, presidente di Targa Puglia, che ha organizzato questa bellissima situazione il 16 e il 17 di giugno presso il centro commerciale BariBlu. Allora, una festa importante fra l'altro? Sì, è una festa di appassionati di auto, autostoriche chiaramente, belle auto. Noi siamo a Targa Puglia e siamo affiliati a ACI Storico, col presidente Ranieri che ci ha dato una grande mano l'anno scorso e anche quest'anno a riorganizzare questo evento. L'anno scorso l'abbiamo fatto a Torre Quetta, quest'anno ci spostiamo a BariBlu, una location un po' diversa, un po' più particolare. Infatti anche le macchine che verranno saranno un po' particolari, ma non vi diciamo che macchine verranno, dovrete venire per forza a vederle. Targa Puglia è la manifestazione che nel 31 fece il giro di Puglia. Con ACI Storico stiamo tentando di rifare questa avventura. Infatti in questo concorso d'eleganza il premio sarà un partecipare gratuitamente alla prima tappa di Targa Puglia che sarà Gargano ad ottobre e sarà un giro turistico per auto d'epoca sui nostri posti più belli. Un'importanza questa anche per ACI Storico, logicamente? Sì, senz'altro. L'ACI da alcuni anni si occupa di veicoli storici, ha un elenco molto dettagliato di queste vetture. Ci sono progetti particolarmente elaborati proprio da ACI Italia e tutti gli ACI provinciali, essendo facente parte di questo club ACI Storico, organizza eventi locali. Sempre col sostegno, il grande sostegno, devo essere sincero, di ACI Storico che è dotato di tecnici e quindi di uffici stampa e di un'organizzazione che ovviamente gli ACI provinciali non hanno. Noi seguiamo la Targa Puglia, siamo molto legati perché loro sono appassionati e l'ACI segue gli appassionati di veicoli storici perché è un mondo veramente molto interessante, molto bello perché è fatto di persone che amano veramente il veicolo. L'anno scorso l'abbiamo fatto quindi a Punta Perotti e è stato molto carino, c'è stata una bella partecipazione ma soprattutto è bellissimo seguire queste persone che non tutte sono particolarmente benestanti ma sono appassionate di veicoli storici e li trattano come se fossero dei loro figli, li trattano con grande cura, si scambiano informazioni, sono sempre attenti a ogni particolare e quindi l'ACI seguirà e si sta sviluppando sempre di più in questo settore che è anche economicamente importante. Siamo con la dottoressa Paloni, assessore al sviluppo economico del Comune di Bari. A margine dalla conferenza stampa è venuta fuori la sua vena romantica di appassionata auto e moto. Noi invece vogliamo parlare di una cosa un po' più importante, è vero questi due giorni di festa ma è vero anche l'importanza per quanto riguarda la sicurezza stradale? Per me è fondamentale, come ho detto in conferenza stampa, ma lo dico spesso, ho un'esperienza personale e quindi so cosa significa, cosa provoca, poi tra l'altro quando va tutto bene perché personalmente quando adesso vedo un incidente mi fermo, rivivo quei momenti e quindi dico perché, perché non pensarci prima a quello che può accadere, che può succedere. Quindi un evento come questo è vero la bellezza, è vero l'indotto anche del stare insieme, di scoprire le parti belle della città, dell'intera Puglia, ma è anche vero fermarsi un po' e riflettere sulla sicurezza stradale. Possono queste situazioni dare una mano d'aiuto ad informare ancora di più sulla sicurezza? Beh sì, più se ne parla in qualsiasi lingua, meglio è, qualsiasi siano gli schemi di comunicazione, l'importante è mantenere alta quella che è l'asticella della prevenzione ma anche della con della singola e semplice conoscenza, cosa può succedere e come evitarlo. Comune di Bari sempre molto sensibile a queste situazioni? Beh sì, noi sì, tra l'altro abbiamo molte associazioni vicino a noi che supportiamo, che supportano anche quelle che sono le attività amministrative, anche la polizia locale insomma fa spesso una campagna di comunicazione per le nostre strade, vediamo sul lungomare, spesso corrono e quindi anche limitare con le multe, voglio dire limite di velocità sicuramente non ci divertiamo in quello però è un modo per fermare quella che è anche l'euforia a volte dei giovani. La vedremo in qualche auto d'epoca, sabato o domenica? Sì, penso di sì, farò sicuramente un salto. Grazie. Grazie a voi. Radio W0 Suona ciò che ami, più suona e più la ami.